Bentornati sul mio canale o se siete nuovi benvenuti, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è quello di denunciare, diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Dunque devo fare solo un piccolo disclaimer prima di iniziare con la storia di oggi, nel caso di oggi andrò a descrivere delle scene di torture, scene violente che potrebbero dar fastidio ad alcuni di voi, quindi se sapete di essere sensibili a questo genere di argomento per favore uscite da questo video, tornate al prossimo, non mi offendo, sono convinta che tornerete. Oggi parliamo del caso di Pietro De Negri che probabilmente molti di voi conosceranno come Ercanaro, un caso davvero scioccante, molto interessante, così tanto che ci hanno fatto non uno ma ben due film. E vorrei parlarvene per una manciata di minuti prima di iniziare a raccontarvi la storia perché penso sia estremamente interessante prima di buttarci a capofitto nel caso in sé. A farlo non sarò io ovviamente, ma un esperto. Lascia la parola a Mario Palladino che gestisce il canale Cose dell'altro cinema. La storia del Canaro della Magliana lo chiama a gran voce un film o forse una serie di film nel corso degli anni, perché al di là di quello che è il fatto di cronaca, e lo vedrete poi più avanti nel video, ci sono dei risvolti umani, psicologici, che sono veramente interessanti da analizzare, anche in un'ottica un po' autoriale, no? E quindi mi sarei aspettato di vedere questa storia riproposta in tutte le salse. In realtà quello che è capitato è abbastanza paradossale. Capitato che 30 anni dopo, esattamente 30 anni dopo, nel 2018, due registi quasi nello stesso momento propongono la loro versione della storia del Canaro. Matteo Garrone con il suo Dogman e il buon Stivaletti con il suo Rabbia Furiosa, sottotitolo Ercanaro. Ora, io lo so che sono film tratti dalla stessa identica vicenda, però vi consiglio di guardarli entrambi. Non è come guardare due volte la stessa storia. Il punto di vista è molto forte in quello di Garrone, il punto di vista è molto forte in quello di Stivaletti. Garrone cerca di raccontare la storia attraverso le difficoltà del quartiere, attraverso la tragedia della vita misera di questo Canaro, attraverso la delusione, attraverso la voglia di essere accettati. Stivaletti racconta questa storia con il filtro del sangue, in qualche modo, però non disdegna di approfondire psicologicamente i personaggi. Quindi i film sono sì sulla stessa linea, ma perfettamente godibili e non stucchevoli anche se visti uno appresso l'altro. Quindi consiglio la visione di entrambi, però vi lascio alla storia perché è veramente interessante. Grazie Mario e adesso iniziamo con la storia di oggi. Dunque ci troviamo a Roma, nell'anno 1988. Una Roma in cui vige la legge del più forte, una Roma piena di criminalità. La percentuale di omicidi in quegli anni era altissima, pensate che ce n'erano più di 80 all'anno. Più di 80 delitti all'anno, solo a Roma. Il 19 febbraio del 1988 la polizia riceve una chiamata da parte di un uomo che gli diceva di correre in un terreno di via Enrico Cruciani a Librandi, perché avevano trovato qualcosa e avevano paura di cosa potesse essere. Quella zona era un po' una zonaccia, un quartiere isolato a ridosso della ferrovia, in cui solitamente la gente andava per fare cose losche, per appartarsi con le prostitute o per drogarsi. Alle 8 e 30 di quel mattino la polizia arriva sul posto e trova qualcosa avvolto in un sacco nero della spazzatura. Qualcosa di carbonizzato, che ancora fumava. E non si capiva cosa fosse, all'inizio pensavano fosse la carcassa di qualche animale. Ma quando la polizia si avvicina e guarda meglio, si accorge che questa cosa aveva qualche sembianza umana. Infatti capiscono che si trattava proprio del cadavere di una persona carbonizzata. L'odore era insopportabile, era una scena davvero orribile. E quando analizzano i resti scoprono che si trattava di un ragazzo tra i 20 e i 30 anni. E si accorgono anche che qualcuno, prima di carbonizzarlo, lo aveva legato. Precisamente lo aveva incaprettato, come si fa con gli animali. E non solo quello. Si accorgono che il corpo era completamente mutilato. In una maniera orrenda. Le autorità raccontano di non aver mai visto niente del genere. Il medico conferma che al corpo erano state tagliate le labbra, la lingua, il naso, le orecchie. Gli erano stati amputati i genitali e gli erano stati messi in bocca. Gli avevano tagliato le dita e gliele avevano conficcate nell'ano. E infine, anche la sua testa era completamente spaccata. Le dita erano l'unica cosa che non erano state danneggiate dal fuoco. E in questo modo sono riusciti a identificare la vittima. La vittima era un ragazzo di nome Giancarlo Ricci e aveva 25 anni. E dopo aver fatto un po' di ricerche su questa persona, scoprono che Ricci era un ragazzo con un carattere un po', diciamo, turbolento. Ricci aveva la passione per la droga e le risse. Era il classico bullo di quartiere, attaccabrighe, faceva sempre a botte con tutti. Ogni scusa era buona per mettere le mani addosso a qualcuno. Tant'è che il suo soprannome era proprio il Pugile. Un po' perché alcuni anni prima aveva fatto un po' di pugilato, però a livello dilettantistico, niente di che. E un po' proprio perché aveva la fama di comunicare con i pugni. Era proprio aggressivo, violento, aveva l'abitudine di causare problemi. Quindi non è stato difficile per le autorità pensare che forse quella volta aveva causato problemi alle persone sbagliate. La prima pista che gli inquirenti seguono è quella della mafia. Forse questa persona aveva fatto arrabbiare qualche clan mafioso, aveva fatto qualche torto, aveva parlato troppo. Anche perché in quegli anni, alla fine degli anni Ottanta, la mafia in Italia era dappertutto. Soprattutto a Roma. Città in cui aveva proprio messo radici. Erano furbi e organizzati e avevano in mano tutto il mercato della droga di Roma. C'era la mafia siciliana, la camorra. E poi c'era la famigerata Banda della Magliana, l'organizzazione criminale mafiosa romana. Che prendeva il nome proprio dall'omonimo quartiere. Quartiere guarda caso in cui viveva proprio Giancarlo Ricci, il pugile. Ricci era un uomo, diciamo, fisicato. Era molto muscoloso. Di conseguenza la polizia dà per scontato che dovevano essere state più persone a legarlo e a ridurlo in quello stato. Più gli investigatori indagano e più sono convinti che abbia fatto un torto a qualcuno. Qualcuno più potente, più forte di lui, che gliel'aveva fatta pagare. Iniziano a indagare nel suo passato e scoprono che qualcosa del genere gli era anche già successa. Perché a quanto pare anni prima Ricci si era indebitato con alcuni spacciatori che per fargliela pagare gli avevano sparato alle gambe. Lo avevano gambizzato, come si dice. Ma nonostante questo Ricci non si era calmato. Anzi, aveva vissuto quella vicenda come una cosa di cui andare fiero. Una cosa che l'aveva reso più forte. A questo punto gli investigatori sono convinti della loro teoria. Qualcuno aveva voluto far fuori Ricci perché aveva ricevuto un torto o per fargliela pagare a causa della sua troppa esuberanza. Quindi decidono di interrogare tutti i criminali della Magliana. E interrogano circa 80-90 persone. Ma nessuna di loro sembra avere niente di davvero interessante da dire. O che sia rilevante in questo caso. Questo finché non interrogano un uomo di nome Fabio. E questo Fabio era un tossicodipendente ed era anche amico di Ricci. Iniziano a fargli delle domande. Ad un certo punto gli chiedono quando è stata l'ultima volta che hai visto il tuo amico Ricci. E a quella domanda Fabio risponde che era stato il 18 febbraio. Ovvero il giorno prima del ritrovamento del suo cadavere. Quindi questo Fabio probabilmente era stata l'ultima persona ad averlo visto in vita. Questo Fabio racconta alla polizia che quel giorno Ricci gli aveva chiesto di andare con lui in questo negozio di toilettatura per cani. Che si trovava sempre lì nella Magliana. E Fabio l'aveva accompagnato e era andato in macchina con lui. Racconta che una volta arrivati lì Ricci era sceso dalla macchina. Gli aveva detto di aspettarlo lì. Perché lui doveva entrare in questo negozio doveva fare una cosa e che poi sarebbe tornato. Quindi Fabio inizia ad aspettarlo. Ma dopo un'ora vede che l'amico ancora non faceva ritorno. E ad un certo punto Fabio racconta che era uscito il proprietario di questo negozio di toilettatura per cani. Era andato da lui e gli aveva detto guarda Ricci mi ha detto di darti le chiavi della macchina e di riportarla a casa sua. Perché a quanto pare lui e Ricci avevano appena rapinato un uomo siciliano. E di conseguenza Ricci era dovuto scappare dal retro del negozio per non farsi vedere da nessuno. E sarebbe dovuto stare nascosto per un po' di tempo. E a quel punto Fabio fa come gli è stato detto. Riporta la macchina a casa di Ricci e se ne va. Quando gli investigatori sentono questo racconto di Fabio hanno come la conferma alla loro teoria. Quest'uomo siciliano che Ricci aveva rapinato era sicuramente un mafioso. Ricci aveva rapinato l'uomo sbagliato che il giorno dopo l'aveva preso e gliel'aveva fatta pagare in quel modo orribile. Decidono quindi di andare a parlare con questo proprietario del negozio di toilettatura per cani. Per avere conferma della versione di questo Fabio. Il toilettatore di cani si chiamava Pietro de Negri. Soprannominato Ercanaro per i cani no? Il canaro ha 32 anni e viene dalla Sardegna. È separato dalla moglie e ha una figlia di 7 anni con cui è molto legato. Ed è una persona tranquilla. E magrolino sembra molto pacato, molto timido. Ha la passione per le moto e per gli animali. Amava gli animali di conseguenza amava il suo lavoro. Ma a quanto pare per arrotondare il suo modesto stipendio da toilettatore di cani, faceva anche qualche lavoretto illegale come per esempio spacciare droga. Anche perché in una zona come quella della Magliana non erano tante le persone che portavano il loro cane dal coiffure. Indagano ovviamente sul passato di De Negri, il canaro, e scoprono che non frequentava proprio bella gente. A quanto pare si era separato dalla moglie senza nessun motivo. Di punto in bianco si era separato ed era andato a vivere nel retro del suo negozio. Così da poter avere a che fare con la malavita del quartiere in modo indisturbato. Il 20 febbraio del 1988 le autorità vanno da questo canaro nel suo negozio, che si chiamava Damambli, e iniziano a fargli qualche domanda. La polizia nota subito che il canaro non è per niente tranquillo. È molto nervoso, agitato. Parla molto in fretta, in modo un po' sconnesso, si mangia le parole. È chiaro alle autorità che il canaro fosse sotto l'effetto di qualche sostanza. Ma era anche chiaro che avesse qualcosa da nascondere. Il canaro inizia a parlare con le autorità e gli racconta che qualche mese prima lui e Ricci avevano rapinato insieme uno spacciatore, che faceva parte di un clan mafioso dei siciliani. E questi mafiosi avevano iniziato successivamente a questa rapina a minacciare sia lui che Ricci, giurando che gliel'avrebbero fatta pagare. Al che, racconta il canaro alle autorità, lui aveva venduto Ricci per togliersi da quel guaio. Confessa le autorità che quel giorno, quando Ricci era andato da lui in negozio, in realtà era tutta una trappola. Lui aveva invitato Ricci nel suo negozio con una scusa. E nel frattempo aveva fatto arrivare questi siciliani e gliel'aveva consegnato. Ma nel raccontare queste cose alla polizia, il canaro è talmente agitato, che la polizia inizia a pensare che stia mentendo. Anche perché, guardando meglio, si accorgono che il canaro aveva ancora le scarpe piene di sangue. E iniziano a pensare che ad uccidere Giancarlo Ricci, in realtà, non era stato nessun mafioso. Era stato proprio Pietro De Negri, detto il canaro. Notano che in quel retrobottega in cui lo stanno interrogando era ancora forte l'odore di varichina, che aveva usato probabilmente per ripulire tutto. Lo portano quindi in questura e iniziano ad interrogarlo per ore e ore. Lui continua a negare, continua a dire che erano stati questi mafiosi ad averlo fatto fuori. Lui non c'entrava niente. Ma la polizia aveva ormai capito tutto, doveva solo trovare il modo per farlo confessare. Ma perché questo canaro avrebbe dovuto far del male a Giancarlo Ricci? Perché ricordiamoci che quello non era stato un semplice omicidio. Il corpo era stato seviziato, mutilato, torturato in modi orribili. Qual era il motivo di così tanta crudeltà? Ve lo spiego subito. Dunque, le autorità indagando scoprono che il canaro e Ricci erano sempre stati amici. Erano sempre insieme ed era una coppiata un po' strana, se ci pensate. Perché uno era il bullo di quartiere, violento, aggressivo, forte. Soprannominato il pugile perché fa sempre a botte. Mentre l'altro, invece, era debole, magrolino, tutto timido. Soprannominato il canaro perché pettina i barboncini. Infatti, tra i due, si era sviluppato un rapporto un po' malsano. La loro, infatti, non era un'amicizia sincera. Era quasi un rapporto di codipendenza. Ognuno, a suo modo, aveva bisogno dell'altro. Ricci era quello che approfittava del canaro. E cercava di prendere, prendere da lui tutto quello che riusciva a prendere. E il canaro, a sua volta, era quello che dava. E che aveva un attaccamento morboso verso Ricci. Perché avrebbe voluto essere come lui. Era affascinato dalla personalità così forte di Ricci. Avrebbe voluto essere lui in quel modo. O, in alternativa, avrebbe voluto essere il suo braccio destro. Il suo migliore amico, il suo confidente. Voleva tenerselo stretto. Voleva essere il suo punto di riferimento. E avrebbe voluto anche che gli altri criminali della Magliana, con cui aveva a che fare, lo rispettassero. Lo temessero. Cosa che, invece, non facevano. Perché a causa del suo carattere mite, la gente lo riteneva proprio insignificante. Si accontentava, quindi, di vivere proprio di luce riflessa di Ricci. Questo gli bastava. E a sua volta, Ricci, l'unica cosa che vedeva nel canaro, era una persona di cui poter approfittare. Una persona debole. Non era per nulla riconoscente della sua devozione. Non gli fregava niente. Anzi, lo trattava pesci in faccia e lo sfruttava in ogni modo. Quindi, capite, era un rapporto malsano e mi ricorda davvero la dinamica di molte relazioni tossiche. In cui c'è un carnefice e una vittima. Che spesso da fuori diciamo, ma come fa a stare con questa persona che la tratta così male? Perché non esce da questa relazione? Ecco, in questo caso, in un certo senso, era più o meno la stessa cosa. Perché Ricci trattava proprio male il canaro. Gli chiedeva continuamente dei favori, gli chiedeva di dargli droga gratis, gli spillava soldi. E il canaro non diceva mai di no a queste richieste. E comunque, quando provava a farlo, Ricci di tutta risposta lo picchiava. E più passava il tempo e più Ricci capiva che poteva sempre spingersi un po' più in là col canaro. Che tanto non reagiva mai. Finché un giorno gli propone una cosa un po' più estrema. Gli propone di svaliggiare insieme a lui un negozio di abbigliamento che era proprio dalla parte opposta della strada rispetto al suo negozio di toilettatura. E anche questa volta il canaro gli dice di sì. Svaliggiano insieme questo negozio e rubano addirittura 100 milioni di lire. Ma quando arriva la polizia, chiaramente la prima persona a cui pensano è il canaro. Che era un pregiudicato e aveva il negozio esattamente dall'altra parte della strada. E così lo arresta. Il canaro va quindi in prigione per 10 mesi. Ma in tutto quel tempo non fa mai neanche una volta il nome del suo amico Giancarlo Ricci. È fedele fino all'ultimo. E quando esce di prigione non vede l'ora di raccontarglielo. Che non aveva mai fatto il suo nome, che non l'aveva mai tradito. Si era quasi sacrificato per lui. Ma soprattutto non vedeva l'ora di chiedergli la sua parte del bottino. Avevano svaliggiato un negozio insieme. Lui era andato in prigione per tutti e due. Si era sacrificato. Quindi adesso voleva anche la sua parte. La parte che gli aspettava. Ma Ricci, invece di ringraziare l'amico per la sua cieca lealtà, come si aspettava al canaro, non solo non gli dà neanche un centesimo, ma lo riempie pure di botte. Quindi, insomma, questi erano in retroscena del rapporto che c'era tra il canaro e Ricci. La polizia viene a conoscenza di tutti questi fatti. E a questo punto ha ancora il canaro in custodia. Sta ancora cercando di farlo confessare. Ma non ci sta riuscendo. Il canaro continua a negare. Continua a dare la colpa alla mafia, dicendo che è stata la mafia, a farlo fuori. Al che la polizia, sfruttando la natura malata del suo rapporto con l'amico, inizia un po' a manipolarlo per farlo parlare. Inizia a dirgli, tipo, ma sì, ma lo sappiamo che non l'hai ammazzato tu. Figurati, d'altronde tu non sei un uomo. Non sei uomo abbastanza per fare una cosa del genere. Figuriamoci se sei stato tu. E quando il canaro sente questa frase, tu non sei un uomo, non sei abbastanza uomo, risponde, ah no, non sono un uomo. Ti dico io che cosa gli ho fatto. Gli ho spaccato la testa, gli ho preso il cervello e gliel'ho lavato con lo shampoo che uso per lavare i miei cani. E da quel momento inizia a parlare e non si ferma più. Confessa tutto. Racconta che Ricci era crudele con lui. Racconta che dopo essersi fatto dieci mesi di galera per lui ed essersi anche preso le botte, Ricci aveva continuato a infierire su di lui. Racconta che un giorno Ricci si era presentato nel suo negozio come faceva di frequente per chiedergli della droga gratis. E quel giorno aveva anche fatto del male ad una cagnolina a cui il canaro era molto legato. E dopo gli aveva anche rubato lo stereo. L'aveva picchiato e se n'era andato. Gli aveva rubato questo stereo proprio a mo' di sfregio. E questa cosa è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il canaro. Quello era il suo limite. Qualcosa è scattato in lui. Era stanco di subire questo trattamento. Era stanco delle botte. Era stanco di farsi sfruttare. Di regalargli droga gratis. Di farsi picchiare. E in quel momento il canaro decide di vendicarsi. Per raccontare meglio alla polizia i dettagli di quello che era successo. Il canaro decide di scrivere un memoriale. In cui praticamente raccontava tutta la sua vita fino al giorno dell'omicidio. E il 24 febbraio del 1988 dopo che il canaro è già in prigione da una settimana. Le autorità lo portano sul luogo del delitto. Così che possa raccontare finalmente proprio nei dettagli che cosa era successo. E come erano andate le cose. E finalmente lo fa. Racconta che intorno a luna di pomeriggio di quel 18 febbraio Ricci si era presentato nel suo negozio. Insieme al suo amico Fabio quel tossicodipendente che lo stava aspettando in macchina. E si era presentato lì come al solito per chiedergli di dargli della droga gratis. E allora il canaro mette in atto il suo piano. Dice a Ricci che quel giorno poteva avere molto di più di qualche grammo di droga gratis come faceva di solito. Perché proprio quel pomeriggio il canaro stava aspettando uno spacciatore che sarebbe arrivato di lì a poco per trattare una grossa partita di coca. E di conseguenza se Ricci era disposto avrebbero potuto rapinarlo insieme. Ricci accetta e quindi il canaro gli dice che tutto quello che doveva fare era nascondersi finché non sarebbe arrivato questo spacciatore. Gli dice che poteva nascondersi in una delle gabbie che lui usava per mettere dentro i suoi cani in modo da sorprendere meglio quest'uomo. Quindi Ricci lo fa si infila dentro una di queste gabbie e improvvisamente il canaro mette la musica a tutto volume sullo stereo nuovo che aveva comprato per sostituire quello che Ricci gli aveva rubato e subito dopo chiude con il lucchetto la gabbia dentro cui c'era Ricci. Quando Ricci capisce di essere finito in una trappola inizia ovviamente a dimenarsi come un pazzo inizia a urlare a insultarlo a minacciarlo ma il canaro gli butta subito addosso della benzina e si avvicina con un accendino ridendo e gli dà fuoco. A questo punto spinto dal dolore delle bruciature Ricci riesce a spaccare questa gabbia e riesce a uscire però solo con la testa ma il canaro prontamente gli tira una bastonata e gli fa perdere i sensi e dopo lo prende lo estrae dalla gabbia e lo mette sul tavolo e lo lega con quelle catene che si usano per insomma immobilizzare i cani quando si dosano e inizia a torturarlo. Nel frattempo ovviamente Ricci riprende i sensi e il canaro prende una cesoia e inizia a tagliargli le dita la lingua le guance il naso gli taglia anche le orecchie come si tagliano ai Doberman dicendo che voleva farlo assomigliare a un cane e per fare in modo che non morisse subito dissanguato gli cauterizza le ferite usando la benzina e mentre faceva tutto questo faceva anche uso di droga quindi faceva una sniffata e poi tagliava un pezzo all'amico poi una sniffata un pezzo così e nel frattempo gli spiegava anche tutto quello che gli stava facendo passo passo ma ad un certo punto si ricorda che Ricci era arrivato lì insieme a quel suo amico Fabio che lo stava aspettando in macchina e allora a quel punto esce fuori gli dà le chiavi della macchina di Ricci gli dice che Ricci gli aveva detto di portare la macchina a casa di andare via e gli dice tutta quella storia che vi ho detto all'inizio che avevano rapinato una persona e che adesso Ricci era scappato doveva nascondersi e Fabio così se ne va senza far domande il canaro allora torna dalla sua vittima e continua a torturarlo per ore fino alle 4 di pomeriggio quando si ricorda che doveva andare a prendere sua figlia a scuola sua figlia di 7 anni e lo fa interrompe queste orrende torture va a prendere sua figlia la lascia a casa della madre e ritorna dalla sua vittima e continua a torturarlo continua a farlo a pezzettini gli prende il pene che gli aveva evirato e glielo mette in bocca gli prende le dita che gli aveva tagliato e gliele infila nell'ano infine gli spacca la testa in due come aveva detto alle autorità e gli lava il cervello usando lo shampoo che usava appunto per lavare i cani dicendo che lo aveva fatto perché Ricci aveva bisogno di schiarirsi i pensieri e in tutto diceva di averlo torturato per ben sette ore a questo punto Ricci chiaramente è senza vita il canaro prende il cadavere lo carica sulla sua macchina lo scarica in quel campo e gli dà fuoco ma non lo brucia completamente lo bruciacchia solo un po' perché in realtà vuole che la polizia riesca a riconoscerlo a identificarlo e in fondo vuole proprio che tutti sappiano che era stato lui che anche lui era in grado di vendicarsi di farsi giustizia di farsi rispettare voleva che tutta la Magliana sapesse che fine gli aveva fatto fare a quel bullo di Ricci voleva che tutti sapessero che lui era un uomo quindi ora finalmente la polizia conosce tutti i dettagli ma guardando la scena del crimine c'erano alcune cose che non tornavano per esempio il Canaro aveva detto che Ricci era riuscito a sfondare questa gabbietta che era riuscito ad uscire con la testa ma in realtà tutte le gabbie erano intatte il medico legale facendo l'autopsia scopre che in realtà ad uccidere Ricci era stato il primo colpo in testa che aveva ricevuto e che di conseguenza tutte quelle se vizi e quelle torture che il Canaro aveva descritto gli erano state inferte post morte non mentre era ancora in vita come invece aveva raccontato lui inoltre sembrava che il tutto non fosse durato sette ore ma si e no 30-40 minuti e poi ancora il medico legale non ha mai trovato tracce di benzina sulle ferite mentre il Canaro invece aveva detto che cauterizzava le ferite con la benzina proprio per tenerlo in vita più a lungo e persino la quantità di droga che lui diceva di aver assunto era troppa umanamente impossibile quindi per carità le cose che aveva fatto erano comunque orribili ma aveva ingigantito un bel po' le cose forse per mitomania o forse per puntare all'infermità mentale sicuramente per il povero Ricci è stata una fortuna che in realtà durante tutte quelle torture lui non fosse in vita ma fosse già morto il Canaro inizia a dire che durante quelle torture lui non si sentiva se stesso diceva che era come se fosse in un film come se stesse guardando un film come se non stesse succedendo davvero e inoltre uno degli effetti della coca è proprio la sensazione che il tempo scorra più lentamente ecco spiegato il perché il Canaro pensava di aver torturato Ricci per sette ore invece erano state solo trenta minuti erano però tutti elementi che portavano a pensare che in quel momento lui non fosse in grado di intendere di volere gli fanno una perizia psichiatrica ma ci vogliono mesi per arrivare ad un risponso mesi che il Canaro passa in prigione nel frattempo fuori la famiglia di Ricci è devastata erano una famiglia molto unita e la madre Vincenzina non si dà pace era convinta di essere quasi riuscita a salvare suo figlio dalla droga era convinta di essere molto vicina a questo suo obiettivo e che se non fosse stato per il Canaro ci sarebbe davvero riuscita e nel maggio del 1989 succede una cosa davvero inaspettata i risultati della perizia psichiatrica escono e Pietro De Negri viene dichiarato infermo Pietro De Negri viene dichiarato infermo di mente e ha agito in quel modo solo perché sotto l'effetto di droghe la perizia determina anche che il Canaro non era socialmente pericoloso perché non avrebbe mai più fatto del male a nessuno e quindi viene scarcerato viene lasciato libero il 12 maggio del 1989 chiaramente la gente del quartiere della città è contrariata disgustata non trovano giusto che una persona dopo aver compiuto degli atti così orribili possa tornarsene a casa e solo il giorno dopo sul giornale il messaggero appare un'intervista al Canaro in cui lui affermava di non avere nessun rimorso ma soprattutto che l'avrebbe rifatto senza problemi e questo articolo fa infuriare la gente ancora di più e fa infuriare soprattutto Vincenzina la madre di Ricci che giura vendetta contro di lui e non solo lei c'era tanta gente che voleva vendicare Ricci e farsi giustizia da soli la madre di Ricci inizia a girare nella zona del Canaro sperando di incontrarlo dicendo che non credeva più a niente ormai e sicuramente non credeva più nella legge e nella giustizia diceva di avere intenzione di farsi giustizia da sola e poi andarsi a costituire e che tanto ormai non aveva niente da perdere perché nessuno le avrebbe più ridato suo figlio e tutto questo dura fino al 18 maggio quando intorno alle due e mezza di pomeriggio la polizia va a prendere il Canaro a casa sua e gli dice che deve tornare in prigione a quanto pare il giudice Maria Carnevale aveva smontato quella perizia psichiatrica che gli avevano fatto e aveva chiesto un nuovo rinvio a giudizio in quanto Pietro De Negri era sì sicuramente malato ma non per questo non era anche pericoloso viene quindi ricoverato in un manicomio criminale in attesa dell'inizio del processo che inizia il 22 gennaio del 1990 che De Negri fosse colpevole non c'erano dubbi ma bisognava un po' definire questo stato di infermità mentale al processo vengono interpellate tutte le persone coinvolte in qualche modo in questo caso tutte tranne la più importante perché Pietro De Negri il canaro si rifiuta di presentarsi in tribunale manda invece una lettera dicendo che era disposto a collaborare e a rispondere a qualsiasi domanda ma non di certo in aula e scrive anche che se lo avessero costretto a presentarsi in aula non avrebbe risposto a nessuna domanda che uomo un vero uomo gli unici con cui parla sono gli psicologi che stanno lavorando per formulare una nuova perizia che è pronta all'inizio di giugno del 1990 la perizia questa volta dice che Pietro De Negri ha ucciso Giancarlo Ricci in uno stato solo parziale di follia quindi praticamente la sua capacità di intendere di volere era un po' così così ma comunque era punibile e il 26 giugno la corte è pronta alla lettura della sentenza e in quello stesso giorno la madre di Ricci Vincenzina aveva rilasciato un'intervista al giornale il messaggero dicendo di sapere che il canaro non era da solo quando ha ucciso suo figlio e le parole di Vincenzina in questo articolo sono caro signor De Negri è arrivato il momento della tua condanna e vuoi sapere una cosa? io sono felice tu ti senti un eroe ma non sei altro che un povero stupido racconti un sacco di balle e ti senti un eroe ti basta questo per riscattare la tua vita da moscerino alla Magliana dove tutti conoscevano sia mio figlio che te sostengono che a uccidere mio figlio sono state altre quattro persone a te hanno solo regalato il cadavere e si inizia a pensare che questa cosa sia vera anche perché girava voce che a quanto pare Ricci fosse anche un informatore della polizia quindi aveva senso che forse qualcuno avesse approfittato del canaro per attirare Ricci da lui per poi farlo fuori e che poi avesse costretto il canaro a farsi lui la prigione Comunque il 26 giugno appunto arriva la sentenza per il canaro e viene condannato a 15 anni di prigione per omicidio più 5 per spaccio quindi in tutto 20 anni e in appello si puntava addirittura all'ergastolo ma di questi possibili complici non c'era traccia perché nessuno era disposto a parlare sempre se esistevano questi complici perché non si è mai saputo per certo nessuno parlava neanche il canaro e l'11 aprile del 1991 il processo di appello condanna il canaro a 27 anni per l'aggravante della premeditazione ma due anni più tardi nel 1993 la pena si riduce a 24 anni ma dopo soli 12 anni quindi dopo 16 anni totali di carcere il canaro viene rilasciato per buona condotta perché a quanto pare in carcere era stato un detenuto modello aiutava per esempio gli altri detenuti i detenuti stranieri che avevano magari difficoltà col disbrigo delle pratiche oppure aiutava anche i detenuti con l'AIDS gli hanno concesso praticamente di scontare gli anni che gli mancavano a casa sua insieme alla ex moglie e alla figlia che nel frattempo era diventata grande seguito anche dagli assistenti sociali che gli avevano anche trovato un lavoretto come uscere in uno studio legale e da quando è uscito non ha mai voluto rilasciare interviste è sempre voluto stare lontano dai riflettori e l'unica cosa che ha dichiarato è stato che aveva pagato il suo debito con la giustizia e che adesso voleva solo essere dimenticato e questi amici miei sono tutte le informazioni che ho sul caso del canaro fatemi sapere se lo conoscevate già fatemi sapere se avete visto i film ringrazio ancora Mario Palladino per questa collaborazione e ringrazio anche voi amici grazie per aver passato il vostro tempo con me anche oggi ci vediamo al prossimo video ciao ciao